Buona così, adesso praticamente abbiamo tutto il drone al potenza 1 Ok, non so esatto, va bene così, va bene così, andiamo Ciao bell'uomo, ciao, ciao, permesso Così ancora avere i proiettili vaganti Ah, figurati Tanto sono abituato di quelli Siete venuti a prenderci? No, ma sta arrivando un convoglio Stateli boni che arriva il convoglio adesso, eh? Non muovetevi Grazie, se non me lo dicevi te Andiamo a fare un po' di Baldoria Santo cielo Madonna Lizzy Ma quanto è cazzuta? Allora Ci pensa il buon caro Mike, boys Ci pensa il buon caro Mike Dove sta scappando quello? Ops, ho finito i colpi Vabbè Permettetemi di andare un po' in battaglia A fare un po' di Gears of War, ok? Allora si corre bassi così Si va qua Si corre così Vino qua Ok, ci si mette giù E poi Alza la testa Ma cosa cavolo fai davanti a me? Zio, ma sei scemo? Eh, guardiani salvo Grazie Guardate il sentinelle Non possiamo caricare i civili sui camion Se non ce ne sono Oh 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 Ok, gente Ecco il migliore dei loro Ah 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 Me rimane uno Delta Ecco fatto La strada è libera Tragruppiamoci La strada è libera Vai Detto no C'è un Bouncer Allora ripartiti E occhio agli aculei Porca miseria Ma perché ce l'hai fisso con me zio? Amatiamo questa cosa per favore Dobbiamo andare Lizzi Sono qua Lizzi Il cancello è vicino ai gradini Il cancello è vicino ai gradini Andiamo Andiamo perché Lizzi è giro che dobbiamo andare Quindi andiamo Ovviamente la motosega la usiamo solo per tagliare Recinti Ohi Del Tutto ok Sai per te non sarà difficile sparare agli innocenti ma per me sì Innocenti eh? Innocenti! Quindi la gente che lancia bombe incendiari è innocenti? Me lo segno Ehi tutte e due smettetela Aspetta Aspetta Questa l'avevo sentita Siete stati voi tre? Non tre Uno di noi ha mantenuto i propri db sotto controllo Che diavolo è successo? Abbiamo identificato ed eliminato elementi insurrezionalisti No Avete sparato su una manifestazione In ogni gregge ci vuole l'abbattimento selettivo Lo so io chi abbatterei in questo gregge Quel che è stato è stato Ora concentriamoci sul completare l'evacuazione Esatto Ho ragione Vabbè Il centro è davanti a noi Merda Carmine è nei guai Sì l'avevamo intuito che Carmine è nei guai Per quello che siamo qua Cioè nel senso che non è che siamo qua per una passeggiata Però Questo può giocare In molti giocatori Ogni condor che perdiamo vuol dire meno rinforzi Ah siamo all'interno di un aereo Ma che figata Ma che figata unica Uno snatcher Se qualcosa arriva al centro Carmine avrà il guai ancora peggio Forza Ehi larve eliminatele Vi dico solo una cosa Levatevi dalle palle Questi scavicate Hello Where are you? L'ultimo è eliminato Delta Carmine è raggiungibile Ti collego un grande grosso fight questo mi sento andiamo facciamo vedere a quei db come si fa ripuliamo la piazza non è così che si fa comunque ma siete due imbecilli anzi tre ave maria piena di grazie si ha ottimo lavoro delta charmine la piazza è libera grazie delta ma ne stanno arrivando altri ehi i nostri rifornimenti sono ancora là fuori quindi fate buon uso dei nuovi lancer di bayard cosa dobbiamo fare da dove? chi? chi? ho capito aiuto dai qua dici ok rb per mirare porca la miseria cosa ho appena fatto mi piace mi piace sei bellissima Vogliamo i Shepard E' bello Vos! E' bello Vos! E' bello Vos! E' bello Vos! I want you to watch it! We want you to watch it! We want you to say I just hate you, but I love you 2! I don't know I'm kidding I'm kidding madonna santissima quest'arma piano piano bello cos'è sta violenza come da destra ho appena ripulito a destra ci proveremo mi fa cambiare arma e basta andate a cagare oh finalmente grazie mille oh così ci siamo ah si surriscalla dici sul problema spariamo sulle colline spariamo dove volete madonna santa questi suoni di roba che si che si spavola grazie mille ok ok focus fire please ok ho dovuto fare tutto da solo praticamente cosa appena è successo cosa diavolo sta succedendo hello hello ma cambia arma l'efficiente ci voleva così tanto carmine la piazza è sicura prosegui con l'evacuazione ricevuto delta usciamo va bene evacuati ascoltate correte fino ai minotauri niente oggetti personali niente bagagli che sei sordo niente oggetti personali carmine accidenti hai salvato molte vite oggi l'ammazzavermi è tornato ammazzavermi ammazza sciame fa lo stesso ha salvato dai miei vecchi allievi ci ho clay e ora mi devo rialzare mi stavo preoccupando non hai fatto rapporto la radio è morta e loro mi hanno tratta di impaccio ti sono doppiamente debitore quelli sono nati con l'elmo in testa ora che c'è ah 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 oh aprite il fuoco giù oh ma che cazzo oh merda aspetti scappiamo l'abbiamo perso andiamo la svolta potrebbero esserci spoiler signore alla fine di questo capitolo quindi state attenti sconfilippo buon buon b buon lesi row li r qui Terror u 日i way lu lu qui è